Ciao a tutti, e benvenuti sul nostro canale di S-Tyres, il vostro punto di riferimento per tutto ciò che riguarda il mondo degli pneumatici e della guida sicura. Oggi abbiamo qualcosa di veramente speciale per voi, una recensione dettagliata del Kleber Chrysalp HP3, un pneumatico che sta facendo parlare di sé, per le sue prestazioni eccezionali. Prima di immergerci nelle caratteristiche tecniche di questo prodotto, vi voglio ricordare di iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Così non perderete mai le nostre ultime recensioni e aggiornamenti, indispensabili per chi, come voi, è appassionato di auto e vuole sempre il meglio per la propria sicurezza e performance su strada. In condizioni di neve, il Chrysalp HP3, offre una sicurezza eccezionale. Grazie alle sue numerose lamelle orizzontali, garantisce una presa e una stabilità senza pari. Qualità confermate dalla marcatura 3 PMSF e M+, simboli di prestazioni elevate su neve e fango. Passiamo alle sue capacità su ghiaccio. Il Chrysalp HP3 si distingue per la sua nuova mescola del battistrada, che migliora notevolmente l'aderenza e riduce la distanza di frenata di un metro su superfici ghiacciate. Questo risultato è frutto di un miglioramento del 8% rispetto alla gamma precedente Kleber Chrysalp HP2. Infine, il Chrysalp HP3, brilla anche su strade bagnate. Questo pneumatico ha migliorato la sua performance in frenata sul bagnato, passando da una classificazione C, a quella B nell'etichettatura europea. Inoltre, ha ridotto la distanza di frenata di 2,2 metri, un 6% in meno rispetto al modello precedente. La sua scultura direzionale a V, e i canali di drenaggio riducono significativamente il rischio di aquaplaning, migliorando la sicurezza in condizioni di bagnato. Queste prestazioni eccezionali, del Kleber Chrysalp HP3 sono il risultato di test rigorosi condotti dal gruppo Michelin, confermando la sua posizione come uno dei migliori pneumatici invernali sul mercato. E con queste informazioni, chiudiamo la nostra recensione del Kleber Chrysalp HP3. Grazie mille per aver guardato il nostro video. Se vi è piaciuto e trovate i nostri contenuti utili, vi invitiamo a iscrivervi al canale di S-Tires e a cliccare sulla campanella per non perdere i nostri futuri aggiornamenti e recensioni. Ricordate, se siete interessati ad acquistare il Kleber Chrysalp HP3, potete farlo in tutta sicurezza sul nostro sito di S-Tires.it. La vostra sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità. E se c'è un particolare pneumatico che vorreste che recensissimo, non esitate a scrivercelo nei commenti qui sotto. Siamo sempre curiosi di sapere cosa pensate e quali prodotti vi interessano di più. Grazie per averci seguito, alla prossima!